salve amiche e amici come è andata quest'estate è passato un po di tempo ed è arrivato il momento di fare il punto della situazione prima di ripartire con la prossima stagione di video prima di continuare ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato l'estate del 2022 è un'estate piuttosto particolare che ci potremo ricordare a lungo perché sappiamo tutti cosa è successo gli anni precedenti e adesso abbiamo in qualche modo riassaporato una qualche normalità gli eventi sono tornati e lo vedremo poi anche in abbondanza e soprattutto si è potuto vedere i frutti e in qualche modo recuperare il terreno e il tempo perso com'è andata allora quest'estate 2022? intanto è un'estate piuttosto lunga e questa è una tendenza che vedremo sempre di più negli anni successivi siamo alla metà di ottobre e ancora si può parlare d'estate perché in qualche modo anche ottobre è diventato un mese di alta stagione sempre più sono gli eventi che si prolungano oltre la data limite di quella che è fisicamente l'estate sempre più sono anche le persone che decidono di utilizzare questo mese molto più che in passato per i loro eventi e di conseguenza anche fino alla... io pensavo che l'ultimo weekend utile sarebbe stato quello del 7-8 ottobre e invece anche per le settimane successive si va avanti fino ad arrivare a quella che è poi la settimana di Halloween e tutto il resto è vero che i locali invernali sono già partiti da qualche settimana però c'è ancora un residuo di estate in corso qualche chiusura, qualche manifestazione all'aperto e in qualche modo dovremo confrontarci, con un'ipotesi, con questa tendenza anche negli anni successivi gli stranieri continuano ad arrivare in Italia anche nel mese di ottobre il turismo va avanti addirittura uno degli ultimi baluardi che è quello dell'apertura degli stabilimenti balneari hanno quasi tutti prolungato il loro tempo di apertura al pubblico e molto probabilmente lo faranno sempre di più lasciamo stare questioni economico-politiche che non ci interessano in questo canale e guardiamo quella che sono invece la situazione per i DJ, i musicisti e coloro che fanno spettacolo nella loro vita possiamo dire che quest'estate è andata piuttosto bene ovviamente è quello che spero anche per te è andata piuttosto bene a chi si è rimesso sul mercato è andata piuttosto bene a chi aveva degli eventi da recuperare degli anni passati è andata piuttosto bene a chi ha cercato di proporre qualcosa non possiamo dire che è andata bene a tutti perché la prima tendenza di quest'estate 2022 è che ci sono stati anche fin troppi eventi quello che è successo a livello più macro più insomma per quanto riguarda i grandi nomi che hanno visitato il nostro paese c'è stato veramente di tutto e di più in grandi dimensioni, grandi eventi e dobbiamo dirlo con franchezza non tutti sono andati bene c'era fin troppo a disposizione c'era fin troppa scelta e quindi anche i nomi importanti si sono andati ad accavallarsi per quello che è comunque una stagione limitata e per quelle che comunque sono le disponibilità limitate delle persone e ve lo dico a livello veramente generale dalla musica pop, rock, dance, elettronica eccetera ci sono stati grandissimi nomi per esempio qui vicino a me a Firenze c'è stato Solomon per la prima volta che ha fatto veramente una gran bella serata e in effetti quando c'era Solomon a Firenze ha cannibalizzato un po' tutto quelle che erano le situazioni di musica elettronica giustamente e così come tanti hanno provato a fare qualcosa e non è andata benissimo ora quello di cui possiamo lamentarci nel nostro settore è che non c'è mai stata voglia di fare un grande coordinamento e di fare squadra quindi ognuno per sé siamo stati chiusi per qualche mese allora si fa tutto di più e che succede succede e questo purtroppo è un grande limite per il nostro settore nel voler aprire tutti subito sempre non è andata bene a tutti perché l'offerta era fin troppo ampia anche se non abbiamo avuto mai un numero di turisti come quello di quest'anno e questi sono i numeri alla metà di ottobre però non basta non basta avere tanta gente perché tutti siano soddisfatti e quindi sarebbe bene anche in qualche modo mettersi a sedere e guardarci un po' intorno prima di voler fare tutti per forza qualcosa e infatti sono tante le situazioni che hanno aperto e poi hanno chiuso sono tanti gli eventi che sono andati benino ha detto agli organizzatori quindi sappiamo bene cosa vuol dire tanti anche gli eventi cancellati per motivi tecnici e ovviamente non stiamo qui a lamentarci anzi è comunque un punto importante il settore ha ripreso, è in ripresa ed è un bene per tutti però ecco sarebbe bene cercare di fare più attenzione un altro aspetto ed è quello con cui vado a concludere questo video è che purtroppo è bene pensare un passo in avanti e vedere cosa comporterà questo per il futuro di chi fa questa vita o questo lavoro perché se quest'anno hanno lavorato tutti e hanno fatto numeri importanti non significa che sia sufficiente per dire di aver fatto bene e di aver lavorato bene il fatto ci sia stato veramente una grandissima quantità di eventi e quindi tante persone anche nuove si sono trovate a lavorare oltre all'endemica carenza di personale di cui si sente parlare ovunque non significa si possa utilizzare questo come anno di riferimento per calibrare il futuro questo è stato a tutti gli effetti un anno eccezionale bene così però cerchiamo di rendersi conto che non si può programmare il 2023 sulla base di quello che è stato il 2022 perché non avremo il carico di tutto ciò che si era accumulato a partire degli anni precedenti non avremo il carico delle persone che escono perché sono state molto tempo in casa e non avremo magari tutto questo afflusso eccezionale che abbiamo avuto quest'anno tanti sono trovati in situazioni di affanno e cercano giustamente di calibrare con maggiore attenzione le forze e le energie per l'anno successivo cerchiamo di far tesoro delle buone esperienze che abbiamo fatto e di riuscire a progettare bene quello che sarà l'anno successivo e gli anni successivi ora dopo tutta questa lunga resoconto del tutto personale sulla base delle osservazioni di ciò che mi è capitato a tiro fammi sapere cosa ne pensi fammi sapere com'è stata la tua estate fammi sapere se hai piacere che questo canale sia ritornato in onda e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi Grazie 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 Grazie